La mente ha la sua ruga del consigliere Patti con baci, 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 Federico. Per cui prego il bacio Federico di mettersi a sedere. Prima di procedere alla votazione io direi di salutare il parte che sono in presente e da parte mia, presso tutto il consiglio, grazie del lavoro svolto durante quest'anno poco più in consiglio comunale e senza altro diamo un benvenuto al nuovo consigliere Bacce. Prima di qualsiasi commento o discussione dobbiamo votare la sua. Favorevoli? E votiamo anche l'immediata seguità. La volevo? Se no ci può stare. Stavo a mettere il tasto del paletto e il baffarato. Grazie. Nella punta che cominciamo. Bene. Grazie. Grazie.